Questo è quello che le persone pensano. Nello sport di squadra, per vincere si escludono i giocatori meno forti. Così le persone non crederanno mai che, per essere competitivi, dobbiamo essere inclusivi. La gente, in realtà, pensa che non ci impegniamo e non siamo coerenti. Sarebbe strano credere o pensare che possiamo far cambiare idea alle persone. Ma noi del Basquiat facciamo la differenza. Possiamo far cambiare idea alle persone. Sarebbe strano credere o pensare che non ci impegniamo e non siamo coerenti. La gente, in realtà, pensa che, per essere competitivi, dobbiamo essere inclusivi. Così le persone non crederanno mai che, per vincere, si escludono i giocatori meno forti. Nello sport di squadra, questo è quello che la gente pensa. Lo sport di squadra. Grazie a tutti.